Siamo con Guido Grimaldi, direttore commerciale e trucchi e trailer del gruppo Grimaldi, figlio di Manuel Grimaldi, attuale presidente di Confitarma, nonché amministratore delegato della holding di famiglia. Dottor Guido, il gruppo, quando si parla di Grimaldi non importa neanche troppe presentazioni, il gruppo sta ottenendo importantissimi risultati proprio nel settore delle autostrade del mare, che lei segue molto da vicino. I numeri più significativi, si può dare qualche numero di queste autostrade del mare, come stanno andando? Le autostrade del mare vanno molto molto bene, non solo per il gruppo Grimaldi, ma credo come fenomeno dell'ultimo decennio. Tutto sommato, credo che noi e i nostri colleghi nel Mediterraneo e nell'Adriatico siamo comunque riusciti effettivamente a decongestionare le arterie autostradali e sicuramente con un prodotto e un servizio che eroghiamo di alta qualità, che questo permette non solo effettivamente una minore incidentalità, una minore emissione di CO2, ma soprattutto permette a tante aziende di logistica oggi di riproporsi sul mercato attraverso delle condizioni molto più competitive e sicuramente attraverso un servizio intermodale ecosostenibile che oggi tutte le grandi aziende chiaramente guardano, soprattutto per quanto riguarda il discorso del CO2. Sento, dottore, la vostra è un'azienda che ha una governance di tipo familiare che sta molto investendo e che continua ad espandersi. Si parla di due nuove possibili acquisizioni, una della polacca Paul Ferry e una dell'Ellenic Seaway Seelenica naturalmente, in cui avete già una partecipazione. Ci puoi dare degli aggiornamenti? Sì, assolutamente. Paul Ferrys abbiamo effettivamente fatto presente al Ministero polacco la nostra decisione, la nostra volontà di acquisire l'azienda, azienda la quale abbiamo comunque venduto qualche settimana fa, abbiamo proprio terminato la vendita della Fin Arrow, che poi è stata rinominata Euroferry Brindisi, una nave di nuova generazione, una nave che è stata venduta e che verrà implementata nei servizi tra la Polonia e la Svezia. Pertanto, voglio dire, noi siamo leader nel Baltico attraverso la compagnia Filens, che svolge già innumerevoli servizi tra Germania-Finlandia, Germania-Svezia, Germania-Russia, così come Danimarca-Germania-Finlandia. E sicuramente, voglio dire, sono innumerevoli altre le linee che noi espletiamo con questo gruppo, che ci sta dando delle enormi soddisfazioni. Mio padre ha, proprio qualche settimana fa, chiuso l'ultimo trimestre come uno dei migliori della storia del gruppo FinLens. Sono stati innumerevoli gli investimenti fatti, ultimo 100 milioni di euro investiti in nuovi scrubber, che sono dei catalizzatori, attraverso i quali noi riusciremo sicuramente a risolvere questa problematica dell'ECA, ovvero dell'immissione dell'obbligo di consumare gasolio, o comunque, voglio dire, sicuramente un prodotto estremamente raffinato, proprio per cercare di ridurre le emissioni di CO2. E attraverso questi scrubber noi possiamo dire che siamo sicuramente oggi il gruppo nell'autostrada del mare che ha fatto in termini di investimento CO2, investimento in catalizzatori più eco-friendly al mondo. Per quanto riguarda invece l'NXE Ways, noi effettivamente siamo già azionisti di l'NXE Ways, con una quota di circa il 35%, però effettivamente per alcuni anni questa compagnia ha vissuto dei momenti un po' difficili e probabilmente stiamo valutando la possibilità di eventualmente passare al controllo dell'azienda. Sento, autore, però per ben navigare le autostrade del mare non hanno bisogno soltanto di moderne unità, ma anche di strutture terminalistiche di un certo spessore. Barcellona ne è un esempio. C'è anche il recente accordo di Livorno con il terminal Sinter, ma ci può spiegare questo significato? Voi chiaramente siete un importante emittente di Livorno, quindi sicuramente conoscerete quelli che sono i scenari della nostra collaborazione con le famiglie livornesi più importanti, con il gruppo Fremura, con il gruppo Neri, dove sicuramente il nostro gruppo è subentrato per quale motivo? Perché abbiamo investito molto negli ultimi anni sul porto di Livorno. Innumerevoli sono le dirittrici che da Livorno oggi partono per tutto il Mediterraneo. Cito alcune linee, Livorno-Barcellona, Livorno-Valenzia, Livorno-Catania, Livorno-Palermo, Livorno-Grecia, Livorno-Bar, Livorno-Patrasso. Insomma, sono veramente tante le linee che oggi spettiamo da questo porto e voglio dire, sono contento che in quest'ultimo anno comunque di difficoltà il gruppo è riuscito a crescere sul Livorno del 25%. Numero, credo, molto significativo ed importante e motivo per il quale la famiglia Grimaldi ha sentito l'esigenza di doversi radicare, non solo dal punto di vista armatoriale, ma sempre di più anche dal punto di vista terminalistico e quindi della vicinanza alla città. Un altro tema di primo piano per l'autorità del mare è quello che si definisce l'ecobonus. Il suo gruppo, mi sembra, mi collega se sbaglio, auspica l'introduzione di un ecobonus mediterraneo. Sì, assolutamente, perché dobbiamo dire che l'Italia è stata effettivamente awarded a livello internazionale come una best practice quella dell'ecobonus. L'ecobonus per la prima volta, gli italiani a livello europeo sono stati elogiati per aver fatto, effettivamente, aver inventato uno strumento volto ad aumentare l'utilizzo dell'autostrada del mare e che sicuramente ha aiutato moltissimo, proprio come volano per le autostrada del mare, a decongestionare quindi l'arteria autostradale. Detto ciò, effettivamente negli anni sono state sovvenzionate delle linee con dei progetti Marco Polo, che però, purtroppo, alcune volte si parla di una vera e propria distorsione della concorrenza, perché quando la comunità europea elargisce dei fondi, dei contributi, è chiaro a una compagnia armatoriale piuttosto che a un'altra, se poi i bacini di utenza sono più o meno gli stessi, quindi non è Livorno ma è Marina di Carrara, non è Valencia ma è Sagunto, o piuttosto che Castellon, è chiaro che i bacini e i traffici sono gli stessi. Pertanto noi auspichiamo a una rinascita dell'eco-bonus, piuttosto attraverso come? O attraverso una reimplementazione, anche attraverso un altro nome che può essere eco-incentive, piuttosto che chiamato in altro modo, ma il concetto è sempre lo stesso, ovvero un sussidio erogato alle compagnie di autotrasporto proprio per l'utilizzo delle autostrade del mare, oppure attraverso un eco-bonus comunitario, per esempio un eco-bonus che potrebbe essere elargito dai paesi Italia, Francia e Spagna per lo più per quelle linee che vengono utilizzate o per quei vettori che utilizzano le linee per lo più tra l'Italia e la Spagna. Auspicabile sarebbe anche un eco-bonus a livello nazionale, perché non le nascondo che le difficoltà anche dei nostri cari amici clienti, siciliani piuttosto che campani, sono innumerevoli, quindi c'è una vera e propria carenza di liquidità, quindi effettivamente c'è sempre più una guerra a ribasso, pertanto sarebbe auspicabile un momento del genere anche a livello nazionale, ad esempio un eco-bonus, così come lo lanciò il governo Sicilia qualche 5-10 anni fa, riproporlo anche a livello nazionale. Lei ha inventato una parola, diciamo un neologismo, trailerization, mi perdoni perché a volte è una parola neanche semplicissima, lacuniato durante un recente convegno, cosa intende per questo termine? Sì effettivamente voglio dire è stato divertente, perché qualche anno fa in effetti si parlava di containerizzazione, a un certo punto a un convegno 4-5 anni fa noi proponemmo la trailerizzazione, a che uno mi disse ma che vuol dire questa trailerizzazione? Effettivamente è un po' un fenomeno che sta accadendo un po' in tutto il Mediterraneo, ma non solo, anche nel Baltico, ovvero su alcuni traffici, alcuni direttrici si ragionava su un 40-60% di utilizzo di camion, quindi accompagnati con autisti piuttosto che con la propria motrice, con la propria trazione, e poi un 40% di semirimorchio solo. Effettivamente quello che alcune grandissime aziende stanno proponendo è l'utilizzo solamente del semirimorchio, perché non ha più senso far viaggiare l'autista andare e tornare, quindi dall'Italia alla Spagna, dalla Germania alla Finlandia, piuttosto che dall'isola di Creta verso Atene, ma quanto invece far viaggiare solamente il semirimorchio e invece utilizzare il trazionista per fare le trazioni a monte piuttosto che a valle. E devo dire la verità che sempre di più la trailerizzazione, anche attraverso delle nuove navi, questo è stato potuto, reso diciamo possibile, perché effettivamente noi abbiamo investito sempre di più in delle navi più grandi, navi più grandi che vuol dire che sul mercato fino a qualche 4-5 anni fa le navi dei nostri concorrenti, ma anche le nostre, avevano una capacità mediamente di 100-120 unità rotabili. Oggi le navi che il gruppo Grimaldi ha fatto costruire presso i più importanti cantieri al mondo sono navi da 280 unità rotabili, quindi pertanto queste navi permettono delle economie di scala e delle convenienze che poi chiaramente noi riusciamo a girare ai nostri vettori, i quali girano alla committenza e attraverso la quale si permette questa trailerizzazione. Senta, chiudiamo dottore con un'ultima domanda che è metà marinara e metà personale. Sappiamo della sua passione fra l'altro di concorsi ad ostacoli, certa abilità anche in questa specialità di equitazione, che ha regalato, fra l'altro una specialità che ha regalato al nostro Paese e grossissime soddisfazioni in campo mondiale. Ostacoli però ne hanno dovuti affrontare soprattutto i fondatori del suo gruppo. Mi riferisco a suo nonno Guido, di cui lei porta anche il nome. Si prosegue questa tradizione e con i cavalli e con il gruppo armatoriale. Beh, dal punto di vista equestre, diciamo, il campione in famiglia è mio padre, che non solo è quello che è stato, voglio dire, il nostro coach per tanti anni e lo è tuttora. Proprio ieri ho fatto una lezione con lui a Roma. Però ho anche un fratello che è molto, molto bravo, quindi chiaramente mi ritrovo oggi, voglio dire, un po' pressato da una parte e dall'altra, quindi cerco di fare meglio. Pertanto, voglio dire, la settimana prossima saremo proprio in concorso ad Arezzo. Noi veniamo spessissimo in Toscana, giriamo tutta la Toscana per fare concorsi. Ahimè, solo il sabato e la domenica, perché spesso e volentieri venerdì siamo ancora, diciamo, a lavorare in giro per il mondo. Però l'equitazione è sicuramente, voglio dire, una grande passione per la nostra famiglia, in particolare per mio padre e per mio fratello. Per quanto riguarda, sicuramente io ho l'onore e il privilegio di portare il nome di mio nonno, che è stato il grande fondatore di questa azienda. Io e la mia famiglia, soprattutto con i miei cugini, cerchiamo di portare avanti con successo quello che è già stato fatto da mio nonno, dai miei zii e soprattutto da mio padre, per quanto riguarda, diciamo, il mercato del Mediterraneo, ma voglio dire soprattutto per l'autostate del mare. E sicuramente quello che noi cerchiamo di fare, io, è di portare avanti questa tradizione e questa grande famiglia. Io ho un figlio che si chiama Manuel, quindi si chiama come il nonno, e aspetto una bambina. Quindi, in buona sostanza, cerchiamo di passare poi alla quarta generazione. Auguri vivissimi, dottore, ringrazio. Grazie.